Bene, la stazione marittima per il candidato sindaco di Salerno, l'avvocato Antonio Camarota, ma il fronte del mare va rivisitato in chiave partecipata e sociale, nel solco dell'identità, della tradizione e dell'innovazione. Salerno deve essere una città di tutti e la stazione marittima non può essere una conchiglia che si apre solo in campagna elettorale, ma poi si chiude. Così questa mattina, nel corso di una affollata conferenza stampa, l'avvocato Antonio Camarota, presentando dopo il programma La Città del Lavoro, La Città del Mare, un progetto articolato, tante proposte per il litorale con grandi eventi ed una riqualificazione della costa. Il mare è il destino della città di Salerno, noi siamo abituati a fare proposte concrete, non abbiamo mai parlato e mai parleremo di politica politicante. Qui sono le proposte che la nostra libertà fa per la città del mare, proposte organiche che prevedono una rivisitazione di tutto il litorale salernitano, come ad esempio triplicare la Renile Santa Teresa, che è una delle cose più belle che ha fatto l'amministrazione uscente, perché determina una sintesi tra città e mare. Poi abbiamo un progetto di copertura del boulevard del lungomare salernitano, ed ancora di fare dei porticcioli sociali, dal lungo Irno in poi, e costruire attorno a questi concetti che prevedono, tra l'altro, come potete vedere, dei grandi eventi estivi e anche delle iniziative di socializzazione, perché noi dobbiamo riacquistare una coscienza sociale del mare, l'identità, la tradizione, l'innovazione della città di Salerno in riferimento al mare. Una città che potrebbe vivere a pieno il mare, non solo durante il periodo estivo, quindi lei parla di una destagionalizzazione e di una maggiore fruizione. Sì, perché ad agosto Salerno si svuota, questo è un dato, quindi non è una città del mare. Noi dobbiamo immaginare anche la chiusura del braccio di sovraflutto del porto di Salerno, è un progetto già cantierizzato, 700 metri chiuderebbe anche il problema delle mareggiate. Aspettiamo naturalmente i soldi che Regione Campania e il primo ministro Renzi ha promesso per Salerno per poter innanzitutto sviluppare queste opere, ma poi sviluppare tutto attorno gli eventi importanti per la città di Salerno e quelli ribadisco che sono qui. E ritrovare anche l'industria nautica. Noi dobbiamo fare un polo della cantieristica navale e attivare un salone della nautica, così come avviene a Genova. Quando si rispetta il proprio destino e la propria identità si va verso il futuro originale, altrimenti si è destinati al declino.